Una vera rarità e anche una vera curiosità. Officina Bardini in potenza, che presenta il suggestivo mondo di Stefano Bardini, con lui che ha iniziato proprio la mostra dell'antiquariato, vero e proprio. Una vera fabbrica dove artigiani, operari e restauratori, sotto la direzione di Stefano Bardini, restauravano gli oggetti d'arte, dando forma al sogno del rinascimento italiano. Uno maggio a Stefano Bardini.